Ancora pericolo, Thuram, la palla passa, Di Marco, il tiro, la deviazione, il gol subito. Prima azione dell'Inter in area di rigore, subito gol, ancora Mkhitaryan, è sempre la stessa cosa. Attenzione ragazzi, attenzione, eccolo qua. Teo deve andare su Dunfris, Dunfris cerca subito il passaggio lungo, palla lunga per Thuram, Thuram in seguito da Malik. Malik, 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 il tiro, incredibile gol del 2-0 dell'Inter con Turan. Eh va bene ragazzi, che cosa volete che vi dica? Se nel nostro momento migliore prendo un gol, poi un gran bel gol mancherebbe altro. Se nel nostro momento migliore prendo questa spingardata, va bene, d'accordo, va bene. Ragazzi, è così. Teo, in buca per Giroud, 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 cerca Leao, 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 Leao. Gol! Raffa e Leao! Giroud per Leao! Raffa in gol! E finalmente ne facciamo uno! E finalmente ne facciamo uno! Sì! Rafa! E almeno uno l'abbiamo fatto! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Dai ragazzi! E uno l'abbiamo fatto! Eccolo Raffaellino, solo davanti a Sommer, palla dentro, palla dentro, palla dentro! Siamo fatti un po' fregare, dovevamo giocarla meglio, adesso attenzione Lautaro Martino e Zucchia, Lautaro Martino e Zucchia, Lautaro Martino e Zucchia, palla dentro, è libero, è libero, è libero, Mkhitaryan, è libero. Ancora gol, clamoroso. Ancora gol. E imbarchiamo acqua ragazzi, imbarchiamo acqua. Purtroppo non abbiamo sfruttato il nostro momento dopo il gol di Leao. Si presenta Ciannalloglu dal dischetto contro Mignan. Retro Mignan. Su ogni palla possono farci gol, è incredibile. Vace a Nalloglu. E la sfiora, Mignan, la palla entra. Mignan che non è riuscito a costruire la propria partita e non è riuscito nemmeno ad arginare quella degli avversari. Ecco Leao che lifta il cambio gioco per Semi Ciuquezza e ancora Florenzi. Ciuquezza attaccato, due su di lui, Sozza lascia giocare, Pioli si avrabbia. Altro contropiede, altro contropiede, Michitari andentro. Eccolo là. Eccolo là. Quinto gol loro. Quinto gol loro. E sono gli ultimi gol Ciannalloglu e Frattesi sono proprio sale sulle ferite. Ha seguito l'azione. Ha fatto gol. Finisce, finisce la partita. Per noi è una brutta disfatta. Una sconfitta che fa male, 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 male. Lo dico cinque volte con i cinque gol degli avversari.